Relitti di Emilia Cinzia Perry Ad ogni risveglio della capsula criogenica, la prima cosa che vedo è il pelus a forma di capra, fissato alla base con un elastico perché non si è sbalzato via dai movimenti dell'astronave. È importante, quando apri gli occhi, vedere qualcosa che ti aiuti a mettere insieme i pezzi. Seguendo la capretta a volteggiare nell'ambiente, la mia mente si lascia annegare in un oceano verde, il manto erboso di Terra 2. Quasi mi sembra di sentire la voce di mamma. Svegliati, Chris! Dormiglione! La colazione è pronta! Sollevo la testa a fatica e con poca voglia. Al posto di una gustosa colazione, ci sarà la solita bustina di nutrienti dal sapore uniforme. Per alzarmi ho bisogno dell'aiuto di Harpo, l'androide attendente, la cui parrucca rosa e il cilindro si affacciano dal bordo della capsula. Tutto a posto, ragazzo! Ora ti tiriamo su, così diamo un occhio all'ingranaggio. Poi, solito copione. Passeggiatina, sbobba, bagnetto. Avanti, marsch! Harpo è un aiutante prezioso, dotato secondo programmazione di un carattere giocoso e protettivo a un tempo. Mi aiuta a prendere confidenza con me stesso e con l'ambiente. Parlando con lui, mi riapproprio istante dopo istante della mia identità, dei miei gesti e dello scopo del mio viaggio. Sono un cosmonauta alla decima missione spaziale consecutiva. Quasi un record, penso, eseguendo gli esercizi di movimento nella camera gravitazionale. Cerco di ignorare la meccanica imitazione del tip-tap di Harpo e mi concentro su quanto riferisci a voce. Siamo atterrati su sable, secondo pianeta ruotante, attorno alla nana gialla 16 cigni B. Lo schermo rende visibile la distesa infinita di sabbia che si apre di fronte a noi. I dati presentano minima variazione di temperatura. Vecetazione scarsa, fauna assente. Sulla superficie, il computer rileva tracce di una forma di vita senziente. Strano. In apparenza, nelle immagini sullo schermo, nulla che si muova a parte le dune, sversate dal vento. Si tratta di una missione difficile. Non posso ripartire prima di aver esplorato il territorio. Da prima cammino soltanto per qualche minuto. Quanto basta per capire che devo proseguire legato con la fune all'astronave? Se non voglio volare via trascinato dalle tempeste di sabbia. Harpo dal ponte di comando, resta in ascolto in caso di necessità, e mi guida mentre procedo in avanscoperta. La volta successiva impiego più tempo. Faccio un giro più lungo. Mi stupisce la velocità con cui le dune si dissolvono e si riformano. La temperatura, a dispetto del sole lontano, è piuttosto elevata. Se non avessi la tuta, probabilmente ne ricaverai delle bruciature sulla pelle. Che pianeta ostile! Mi chiedo come possa esistere vita, qui. Dopo due mesi di giri a vuoto, l'esplorazione non ha dato frutti di nessun tipo. Le analisi continuano a rilevare la presenza di vita, eppure non si registra nessun contatto. Farò un ultimo tentativo prima di dichiarare fallita la missione. Ho notato che le tempeste di sabbia sopraggiungono con un intervallo di circa 5-6 ore. Raggiunto il limite consentito dalla fune, mi fermo. Almeno tre ore dovrebbero separarmi dalla prossima tempesta. Finora non mi sono mai spinto oltre, ma adesso decido di correre il rischio. Mi sgancio dalla fune per aggirarmi, lento, tra le dune. La sabbia è finissima. Una polvere bianca si solleva a ogni passo. Vago a vuoto nel mondo desolato, affatto di aridità, deserto, sole bruciante. Proprio quando sto per tornare sui miei passi, mi accorgo di qualcosa. Una sporgenza scura, puntuta, emerge poco distante. Mi avvicino cauto mentre la sabbia degrada veloce. Lo spuntone diventa parte di qualcos'altro. Con occhi sbarrati osservo la sabbia sparire attorno alla costruzione. Riconosco quella casa. È la mia casa. Quella che ho lasciato su Terra 2. Esito nel momento in cui poggio la mano sulla maniglia. La porta si apre. Dentro c'è il vecchio tavolo di legno e le sedie dalla paglia sfilacciata. Qualcuno canticchia nella stanza attigua. Allunga il volto al di là della soglia. È proprio mia madre, di spalle, che dice «Chris, alla fine ti sei alzato. Sediti, forza, è pronto!» Questo deve essere un sogno. Mi siedo al tavolo. Tolgo il casco che finora mi ha protetto dalla sabbia. Porto alla bocca il latte di capra appena munto. Poi il pane fresco, le uova strapazzate. Il sapore è indescrivibile. Mi aggrappo ad ogni frammento di gusto che riesco a carpire. Come può un sogno essere così reale? Resta al tavolo mentre mamma, dietro di me, si gira e mi accarezza la testa. Non oso voltarmi. «Scusami, mamma, non vengo a trovarti da tanto. Sei un bravo ragazzo, però devi sbrigarti a finire la colazione. È tardi, lo sai?» Mi raggiunge il fischio che precede la tempesta. Distinto, la mano si dirige verso il casco. Faccio pena in tempo a rimetterlo, che tutto intorno a me sfuma in una miriade di atomi. Mi volto per cercare mia madre, ma il suo corpo si scioglie in sabbia. La sabbia vola, portata dal vento, e in un attimo mi ritrovo tra le dune. La tempesta si esaurisce in un lampo. Proseguo il cammino, mi avvicino a una grossa duna. Prendo a scalarla, i piedi affondano, causando una piccola valanga che mi trascina via con sé verso il basso. Un enorme vortice mi inghiotte. Perdo i sensi. Quando ritorno in me, ancora dune all'orizzonte. Alle mie spalle è un palazzo imponente, altissimo. Conosco quel palazzo. Entro, imbocco il corridoio per l'ascensore. Piggio il tasto che mi porterà all'ultimo piano. Ad attendermi, seduto sulla costosa poltrona di pelle, c'è mio padre. Sulla divisa, bene in evidenza, tre stelle bianche. Insomma, ti sei degnato di incontrarmi, dice. Cos'è questa storia di abbandonare l'accademia militare per andartene a spasso, nello spazio? Un altro sogno. Non abbiamo mai avuto un momento, noi due, per parlare così. Colgo il casco, anche se è un sogno, mi è concesso rispondere a una domanda importante. Per me lo spazio non è una terra da conquistare, ma da esplorare. È all'esplorazione, alla ricerca che voglio dedicare la mia vita. E per questo, butti all'aria, una carriera sicura. Le nostre strade sono diverse perché io sono diverso da te. Mio padre curva la testa e si porta le mani alla fronte. Per la prima volta appare vecchio, sconfitto. Le parole che pronuncio adesso mi si formano spontanee sulle labbra. Perdono, mi siete a deluso. Non sono quello che speravi, papà. Lui si alza, mi viene vicino. Lo guardo in volto, i suoi occhi lucidi. Sì, è senz'altro un sogno. Addio, figlio mio. Mi porge la mano. Trovo c'è giusto dirsi addio. Quando tornerò, tutti i miei cari saranno morti da un pezzo. Allungo la mano per stringere la sua. Mi ritrovo sabbia a scivolare tra le dita. Un fischio invade le orecchie. Chiudo gli occhi. La tempesta mi porta via con sé. Quando mi rialzo, il sole è ancora implacabile. Eppure i miei passi sulla sabbia si fanno mano a mano più leggeri. Chissà quanto ossigeno è rimasto. Quanto tempo prima di crollare. Oltrepassata l'ennesima duna, scorgo un oggetto bianco poco lontano. Qualcos'altro deve accadere. Un passo dopo l'altro mi avvicino all'oggetto che si fa oblungo, familiare. Una capsula criogenica. Vorrei fuggire, ma gli occhi restano incollati alle persone lì, distesa, che mi sono sforzato di dimenticare. Mi avvicino alla bella addormentata. Accarezzo i tasti per aprire la capsula. Se questo fosse un sogno, potrei risvegliarla con un bacio. Dal momento che è un sogno, con un bacio lei si risveglia e mi abbraccia tra le lacrime. Sei tornato. Non mi hai dimenticata. Avevi detto che avresti fatto di tutto per guarirmi e ci sei riuscito. Resto in silenzio. Il suo volto accarezza il mio. Non ho mai dubitato di te. Speravo che non mi avresti lasciato indietro. Ti ho lasciato indietro, invece. Ho lasciato indietro il tuo corpo addormentato, nascosto sull'astronave. Ho lasciato indietro persino il tuo ricordo, per la paura di perderti per sempre. Stringendola a me, ripenso alla nostra ultima missione insieme, alla malattia contratta su quel pianeta sconosciuto. La mia compagna di avventura, la donna con cui condividevo la vita e il lavoro, si stava spegnendo, senza che io potessi fare nulla per impedirlo. Ora che le accarezzo la guancia per asciugarne le lacrime, anche il suo volto si dissolve in sabbia. Avrei dovuto riportarla a casa. Però, se l'avessi fatto, sarebbe potuta morire. Preferivo fosse lontana dai miei occhi, ma viva. Per quanto si possa fuggire, Non c'è un posto in tutto l'universo dove nascondere la propria meschinità. Mi lascio portare via dalla tempesta, abbandonandomi alla dolcezza del nulla. Quando mi risveglio, la voce di Arpo ordina Non alzarti, disgraziato! È stata un'impresa ritrovarti e rimetterti in sesto. Dallo schermo, Sabre si allontana, piccolo e distante, nello spazio. Una volta che sarai tornato in forze, faremo i conti. Poi dovrai spiegarmi come hai fatto a trovare le perle nel deserto. Di che parli? Arpo indica la scatola vicino a me. Dentro, tre perle bianchissime. Le stringevi in pugno. Dove le hai trovate? Dove le ho trovate? L'ultima cosa che ho stretto tra le mani era... Te la salisco? Già. Le sue lacrime. Arpo, torniamo su Terra 2. Cosa? Secondo il programma, ora dovremo dirigersi verso... Alla malora il programma. Ho detto che torniamo su Terra 2. Arpo si dispone a eseguire il mio ordine. È programmato per farlo. Accosto le perle alla capretta di Peluche, fissando la scatola alla base. Al prossimo risveglio, non sarà un bambino perduto in un limbo senza fine, ma un uomo che affronta la notte più buia per costruire un futuro autentico. L'immagine delle dune di Sable occupa la mia mente, prima di essere inghiottita dal sonno della capsula criogenica. Sable, il pianeta di sabbia, è vento e vivo. Forse, le visioni erano il contatto tra il pianeta senziente e l'intruso, la piccola creatura che viaggia tra i mondi alla ricerca di se stesso. Ci sono tante cose sepolte nel deserto, relitti che attendono di venire alla luce. Grazie. Grazie.